In meteorologia si dice che il sistema climatico del mondo è così complesso e così interconnesso che una piccola perturbazione in Asia, piccola come il battito d'ali di una farfalla, può provocare un ciclone nell'America centrale. E pensavo proprio a questo effetto farfalla ragionando sui risultati delle elezioni in Estonia, un paese che ci pare lontanissimo e le cui elezioni potrebbero sembrare appunto il battito d'ali di una farfalla, ma il cui esito potrebbe o avrebbe potuto provocare un ciclone da qualche altra parte nel nostro continente. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi, che è il 7 marzo 2023. Io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia ogni giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Uno degli effetti collaterali della guerra in Ucraina è che il nostro continente, l'Europa, è diventato molto più piccolo, molto più integrato. Gli effetti e le conseguenze del conflitto, siano essi politici, economici, di politica energetica, si ripercuotono molto più veloci da un angolo all'altro dell'Unione. Ed è proprio questo che pensavo quando ho letto delle elezioni in Estonia e del loro risultato. Ho pensato che è un evento che fino a qualche tempo fa avremmo vissuto come assolutamente strane o un evento che avremmo ignorato. Oggi invece ha una sua rilevanza anche per noi, che siamo lontanissimi dall'Estonia. Però farei prima di tutto un passo indietro per collocare l'Estonia, capire dov'è, prima di andare a parlare delle elezioni che si sono svolte da quelle parti. L'Estonia è la più settentrionale delle Repubbliche Baltiche, è proprio quella che sta di fronte alla Finlandia e naturalmente condivide con le altre due Repubbliche, la Lituania e la Lettonia, un passato comune. Sono state tre Repubbliche Socialiste dell'URSS e quindi condividono di conseguenza un vicino ingombrante e nerboruto come la Russia che di fatto è stato un po' anche un padrone di casa fino a qualche tempo fa. E quindi nonostante le tre Repubbliche siano entrate dell'Unione Europea, siano parte della Nato, questa vicinanza l'hanno sempre un po' sofferta. Tra l'altro c'è una cosa interessante che va sottolineata ed è che queste tre Repubbliche sono di fatto unite all'Unione Europea soltanto da un piccolo pezzo di confine che si chiama Corridoio di Suvalchi, che è un luogo molto importante, molto rilevante per la sicurezza del nostro continente, perché questo piccolo confine in realtà unisce anche l'esclave russa di Kaliningrad, che è una città russa a tutti gli effetti ma che si trova tra Lituania e Polonia, e la Bielorussia. Quindi se l'esercito russo di stanza Kaliningrad e l'esercito bielorusso si unissero occupando questo Corridoio di Suvalchi, le tre Repubbliche Baltiche sarebbero completamente fisicamente separate dall'Unione Europea e questo sarebbe seriamente una minaccia, diciamo, costituirebbe un serio rischio per la pace nel nostro continente. Comunque l'Estonia è andata a votare perché il governo che la reggeva è caduto, un governo di coalizione, lì ci sono spesso governi di coalizione perché il sistema elettorale è un sistema proporzionale puro, e in particolare la rottura si è avuto tra il partito principale che si chiama il Partito delle Riforme, è un partito liberal democratico che esprime la prima ministra Kallas e che è anche iscritto alla famiglia di Renew Europe a livello europeo, e il partito di centro che invece tradizionalmente rappresentava la minoranza russofona perché ovviamente essendoci stata l'URSS, in Estonia ci sono ancora tanti russi di etnia, di lingua, di cultura appunto russa. Hanno litigato tra l'altro proprio su una questione legata all'istruzione e all'istruzione in russo in Estonia. Alle elezioni si sono confrontati fondamentalmente il Partito delle Riforme, quindi il Partito di maggioranza relativa, e un altro partito, un partito più di destra-destra, che si chiama Partito Conservatore, che era il partito che tradizionalmente solleticava gli istinti nazionalisti degli Estoni, quindi non aveva grandi simpatie dalla minoranza russofona, e che invece questa volta ha potuto contare su molti voti da quella minoranza perché è stato il partito che ha sfidato la prima ministra sul tema degli aiuti all'Ucraina. L'Estonia è il paese che rispetto al prodotto interno lordo ha stanziato più soldi, più fondi per aiutare Kiev, e quindi questo Partito Conservatore ha sempre detto durante la campagna elettorale basta con questo impegno militare, pensiamo alle bollette, pensiamo agli Estoni, e quindi proprio in chiave anti-Ucraina è diventato molto simpatico anche alla minoranza russa che lo ha votato in forze. Comunque alla fine il risultato è stato che il Partito delle Riforme ha vinto bene le elezioni, ha superato il 30%, il problema adesso sarà soprattutto quello di fare una nuova coalizione perché ovviamente non potranno fare la coalizione col partito di centro con il quale hanno litigato e hanno rotto provocando le elezioni anticipate, non potranno certamente fare l'alleanza col Partito Conservatore che appunto ha una piattaforma del tutto contraria a quella della prima ministra Callas, per intenderci Callas ha addirittura proposto di aumentare il budget della difesa fino al 3% del prodotto interno lordo, quindi certamente vuole continuare in quella direzione, quindi Callas dovrà trovare altri alleati. Però certo, torno al punto iniziale di questo episodio del podcast, questa vittoria del Partito delle Riforme è una vittoria che rafforza l'asse di tutti i paesi europei che sono d'accordo a sostenere militarmente l'Ucraina. Se Callas avesse perso, anche essendo lei a Tallin, ne avremmo risentito anche qui a Roma. E lo dico anche perché la compattezza dell'Unione Europea in queste ore viene messa in discussione anche da un altro paese che poi è il solito sospetto, cioè l'Ungheria. Infatti, mentre fino ad ora il processo di allargamento della NATO a Svezia e Finlandia è stato di fatto tenuto in ostaggio soprattutto da Erdogan e quindi dalla Turchia, in realtà questa ratifica degli accordi di allargamento della NATO da parte di Budapest continua a non arrivare. E ora, mentre abbiamo capito che Erdogan ha fatto tutto questo un po' per ottenere da Svezia e Finlandia una retromarcia rispetto al sostegno alla resistenza kurda, Erdogan ha anche cercato e pare stia ottenendo questi caccia F-16 dagli Stati Uniti, è chiaro che questa posizione di Budapest sta rendendo le cose molto complicate perché ovviamente l'Ungheria è un membro dell'Unione Europea, però la ragione per la quale Erdogan si sta muovendo in questa direzione di fatto è abbastanza chiara. Un po' certo parla la sua opinione pubblica che è un'opinione pubblica euroscettica, però sappiamo tutti che l'Ungheria ha anche il problema dei fondi di Next Generation EU che sono congelati per via delle violazioni allo Stato di diritto da parte ungherese, sia relativamente alla magistratura, all'indipendenza appunto del potere giudiziario, che anche ai diritti civili della comunità LGBT e probabilmente Orban vuole utilizzare un po' come arma di ricatto anche questo tema dell'allargamento della Nato. Aggiungo che la politica delle alleanze ungherese certamente strizza l'occhio a Mosca e certamente strizza l'occhio anche ad Ankara e quindi è evidente che bloccando l'allargamento della Nato Orban cerca di creare buoni rapporti con questi due partner che sono anche partner commerciali molto importanti per l'Ungheria. Ovviamente Svezia e Finlandia non sono per niente contente, la prima ministra finlandese ha detto molto apertamente che la politica delle porte aperte della Nato così viene meno, viene umiliata, viene rinnegata, che è una cosa abbastanza importante da dire, abbastanza importante anche da notare. Però questo per dire ancora una volta, come dicevo all'inizio, che ogni respiro di qualsiasi capitale europea oggi finisce con l'avere un impatto molto importante sulla vita di tutti noi e su politiche europee che in politica estera non sono mai state particolarmente coese ma che oggi evidentemente sono estremamente interconnesse l'una con l'altra. Io mi fermo qui e vi do appuntamento domani. La versione di Ivan è un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato all'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.